ciao ragazzi bentornati su hardlock crypto bitcoin sta spingendo verso i 66 mila dollari sto girando lunedì sera e sembrerebbe che il sentimento bullish sia più che mai tornato sul mercato a livello di feeling grid sono ancora neutri ma una cosa è certa le meme coin sono ancora la narrativa più forte di tutto questo ciclo è troppo tardi per acquistare meme coin cosa fare in questo momento e quali sono le mie meme preferite per tutto il ciclo tutto questo e molto di più tra pochissimo prima andare avanti ragazzi vi chiedo un fantastico like che per noi è fondamentale di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati come sempre qua sotto in descrizione troverete i timestamp per saltare alla parte di video che vi interessa di più tutti i nostri social invitiamo a seguirci naturalmente su x ovviamente tutto quello che dico in questo video non è mai un consiglio finanziario ragazzi bitcoin sta spingendo parecchio questa sera e siamo fuori dai guai assolutamente no perché praticamente stiamo spingendo in una resistenza ma questo è molto buono vedete che qua siamo sul giornaliero su bitcoin il 27 settembre abbiamo avuto il primo aerei dopo tanto tempo dopo praticamente abbiamo superato questo picco di agosto e a tutti a parlare di aptober su x naturalmente il mercato quando tutti sono gasati ha preso tempo e ora finalmente stiamo di nuovo abbiamo fatto un air low il che è molto buono e cui siamo molto lontani dalla media 200 qua la vedete che tutto ciò è molto buono abbiamo avuto una candela devastante oggi per adesso non è ancora chiusa in questo momento in cui sto registrando il video ma possiamo essere abbastanza confident cosa possiamo cosa può succedere sicuramente è possibile andare a ritestare molto tranquillamente questa media 200 periodi e non andare long come pazzi sulla resistenza vedere un po come si comporta il mercato che il mercato supera questa zona che ho evidenziato di rosso zona di resistenza dove c'è tantissime attività quindi non siamo ancora del tutto fuori pericoli dobbiamo aspettare di breccare questa zona questa situazione chiudere sopra i 66 mila dollari sarebbe assolutamente fantastico come stagionalità ci siamo assolutamente anche perché ottobre solitamente trova un minimo nei primi dieci giorni e un massimo nell'ultima settimana poi a fine ottobre naturalmente parte anche in questa stagione il cosiddetto effetto halloween che parte proprio dal 31 fino a natale sostanzialmente il periodo più bullish anche nel mondo tradizionale e questo un periodo assolutamente incredibile sul mercato il q4 tutto coincide perfettamente per cui giochiamoci assolutamente le nostre carte sicuramente non dobbiamo avere una fomo incredibile perché nel weekend abbiamo visto delle meme che sono partite su livelli mostruosi il paradigma di murad non sto parlando assolutamente di muro di ardor cripto ma di must stop murad che ha parlato a tocco in 2049 ed è il sostanzialmente uno degli influencer più seguiti in questo momento in assoluto 278 mila follower e ogni suo tweet ha naturalmente un seguito incredibile vi invito a seguire questo discorso che ha fatto a tocco in 2049 non ho parlato nell'ultimo video se volete approfondire avere un riassunto che comunque non è lunghissimo ragazzi quinto minuti ma ne vale assolutamente la pena perché dovete capire la tesi e sapere cosa c'è dietro questo ciclo e praticamente questo è il paradigma di questo cripto ciclo e questa è la tesi di murad fondamentale abbiamo una coin che sta letteralmente esplodendo spx 6900 che è nella sua lista sostanzialmente murad ha fatto una lista di coin che secondo lui rappresentano un culto un culto di una coin con tantissimi holder che non vendono per nessuna ragione lui stesso ha avuto dei wallet doxati in cui ha ad esempio in questo momento a circa almeno 20 milioni di dollari adesso saranno 30 40 milioni di dollari su uno dei suoi wallet doxati in cui è holder di questa coin ragazzi quindi una quantità spaventosa e lui è un holder incredibile non ha venduto nemmeno un token questo è un culto lui naturalmente è a piene mani nel mercato delle meme coin magari anche dei collegamenti eccetera non lo so non voglio parlare male di questo personaggio assolutamente dobbiamo stare molto attenti il fotogramma si è fermato proprio su questa slide l'era wagmi che ce la faremo tutti che tutte le coin andranno su allo stesso tempo è morta e quindi dobbiamo stare attenti perché non è che possiamo acquistare una meme coin a caso e pensare di fare un sacco di soldi bisogna essere molto attenti in questo momento tutti sono concentrati sulla sua lista suggerisco sicuramente di seguire il suo account per rimanere aggiornati sugli ultimi trend eccetera se volete fare dei trade ma quella lungo termine sono quelle sicuramente più potenti di tutte quelle nella lista alcune sono incredibili ogni volta che il mercato ha un crollo sono le prime a reagire sono le più forti coin sul mercato quindi niente fomo tra pochissimo andremo a vedere anche i livelli tecnici cosa fare in questi casi abbiamo anche un interessante promo approfittare fare trading in questo periodo su questo periodo migliore per fare trading perché abbiamo il mercato a favore ma non bisogna assolutamente avere fomo e comprare il top local top del mercato il pump dobbiamo essere cauti e comprare solo su livelli che hanno senso quindi queste sono le coin selezionate da murad detto sp 6900 lui ha tipo 40 50 milioni di dollari di questa coin quindi quantitativo mostruoso poi abbiamo giga è legata al mondo della palestra un meme molto forte pepe è il meme numero uno su internet non ha spinto ancora abbastanza quindi ci credo queste tre sono coin che cercherò assolutamente di accumulare naturalmente popcat sostanzialmente le prime fino a wiff sono coin che personalmente sono nella mia top ten di holding per questo bull market credo che non ho ancora un'esposizione devo essere assolutamente trasparente sp 6900 non ce l'ho ancora purtroppo nemmeno giga ho già accumulato dei pepe popcat wiff wiff sono entrato molto all'inizio praticamente all'inizio dell'anno quindi ho preso profitto tantissime volte eccetera ma avere legata a iggy azalea una coin legata a una celebrità che fa le cose in maniera un po diversa ma è un trend che non mi convince poi magari una piccola esposizione la prendo anche qui altre meme che sicuramente mi interessano tantissimo sono mog bitcoin vi dirò che non mi ha mai convinto stiamo parlando di harry potter obama sony kino qualcosa del genere bitcoin non mi ha mai esaltato ma probabilmente cercherò anche qua di avere un esposizione poi abbiamo le altre che non mi convincono tanto abbiamo delle coin minori altre meme e le dirò tra pochissimo che non sono in questa lista da questa lista ne prendiamo 7 ad altissima convinzione sicuramente le prime 5 quindi spx giga pepe popcat e wiff in misura molto minore mog bitcoin ancora meno e poi volendo maver che ancora un progetto piccolo e potrebbe avere un po di inerza col proseguimento del bull market ghi si sta muovendo molto bene ha fatto un discorso estremamente interessante ha tantissime idee per questo progetto a token 2049 per cui un pochino di maver si possono prendere diciamo tra parentesi prima di andare avanti ragazzi voglio parlarvi di questa fantastica promozione su zoom ex troverete il link in descrizione ragazzi lo cliccate e potrete partecipare e sono in palio fino a 24.699 usdt e anche un iphone 16 pro max dovete praticamente cliccare sul link fate join now naturalmente essere loggati su zoom e dopo di che da zoom ex cliccate in altra sinistra sui quattro quadratini a seconda voce sotto promotions cliccate rewards hub verrete qui e potrete riscattare dei premi legati al trading quindi cliccate sulla promo che vi interessa di più dopo di che dovrete semplicemente fare dei trading nella parte dedicata ai perpetuals quindi dovete per poter essere idonei questa promo è naturalmente per tradere esperti il periodo della campagna va dal 10 di ottobre al 10 di novembre dovete aver depositato almeno 100 usdt nella sezione asset contract ovvero quella legata ai contratti appunto perpetuals trading quindi in leva avendo utilizzato il link di ardo cripto non potrete fare trading su queste coppie contro usdt il coin ethereum eos e xrp la promozione che gli amici di zoom ex hanno attivato per ardo cripto è questa ed è legata a chi muove più volumi più volume fate più avrete ricompense in usdt se fate 25.000 dollari di trading avrete 50 usdt 50.100 fino a un iphone 16 pro e un 16 pro max per un milione e mezzo di dollari ovviamente questo è per trader esperti ci sono inoltre dei limiti di partecipazione abbiamo 100 premi da 50 dollari 25.000 dollari abbiamo quasi un mese di tempo direi che sono assolutamente fattibili 50 premi da 100 dollari eccetera quindi il primo che arriva verrà accontentato questo è quanto ragazzi quindi abbiamo 25.000 dollari quasi di premi e anche un iphone dipende se siete trader esperti potete comunque fare trading avere uno sconto sulle commissioni e sfruttare tutte le promozioni che ci sono nel reward sub di zoom ex che vi interessano i vari setup che tra pochissimo andremo a vedere fateli su zoom ex muovete dei volumi e magari vincete dei simpatici premi ringraziamo ancora una volta gli amici di zoom ex il link è in descrizione eccoci qua ragazzi questa è la frase più importante del buon murad ed è questa questo ciclo non è assolutamente un gioco di charts noi faremo l'esatto opposto adesso non si tratta di analisi tecnica nemmeno un gioco di rotazione nemmeno un gioco matematico è il gioco della gente il segreto per sovra performare e di trovare una comunità forte mentalmente e pura di cuore unirsi a loro e praticamente comprare la coin di quella community e tenerla fino alla fine quindi strong hand mani di diamante tutto quello che volete questa è la situazione del mercato cripto in questo momento per quanto riguarda le meme coin e questa narrativa adesso andiamo a vedere le coin più interessante a dinosauri come doge sicuramente una coin fortissima la prima meme coin in assoluto e shiba non si stanno muovendo praticamente quindi bisogna sempre andare sulle narrative nuove naturalmente questi sono i market cap delle principali meme coin ovviamente al numero uno c'è doge che però si sta muovendo molto poco in questa fase iniziale stiamo aspettando l'hype legato a ilon musk eccetera quindi se siete holder di doge io lo sono purtroppo mi sento un po così sento fumo per alcuni dei progetti che si stanno muovendo di più ma sicuramente doge avrà il suo momento praticamente fisso nella top ten da anni doge è sicurezza ma si muove pochissimo un po come il bitcoin del settore al secondo posto un altro dinosauro shiba una sicurezza 10 billion poi abbiamo già pepe naturalmente intorno ai 4 billion ricordiamo che doge è stato a più di 80 billion nell'ultimo ciclo nel 2021 quindi quale sarà la coin che potrà flippare doge o flippare shiba in questo ciclo vedete i market cap qua sotto e capite rispondiamo alla domanda principale in questo momento è troppo tardi per acquistare meme probabilmente no perché se pensate che una coin possa performare che ne so già solo come pepe o riuscire a flippare fi shiba dovete capire qual è queste qua sono relativamente sicure perché hanno market cap molto alti abbiamo wiff con 2 billion e 800 milioni bonk o quasi meno di 2 billion popcat abbiamo mog quasi un billion brett eccetera queste coin sono praticamente delle scommesse diciamo a basso rischio naturalmente dovete prendervi le responsabilità fare le ricerche per quanto si possa ricercare su queste coin dovete essere sicuri della vostra scelta e assumervi le vostre responsabilità è l'unica cosa che devo dire in questo momento abbiamo performato tantissimo per cui magari andiamo verso un local top una fase di top temporanea alcuni di questi progetti hanno fatto dei profitti senza senso come ad esempio spx 6900 una meme su wall street coinvolto sembrerebbe anche roaring kitty oltre naturalmente a murad questo progetto in cui ci crede tantissimo per formato su livelli impressionante vedete qua la salita che ha avuto da in otto mesi ha fatto sessantamila per cento quindi capite che è un po sovrapprezzato quindi magari con tutti questi profitti verranno magari presi e girati su progetti un po più piccolini vi dirò quali sono quelli che ancora non sono scoppiati quali sono nella mia lista appunto le mie di coin principali prima coin che andiamo a vedere qua su zoom ex che non ha ancora performato naturalmente è pepe deve superare questo livello molto importante è stato un local top qui poi c'è stata un'attività molto interessante intorno a questo livello lo vedete ha fatto da supporto in tutte queste occasioni qua praticamente e sostanzialmente deve superare questo livello qui stiamo aspettando che finalmente pepe possa trasformare questa resistenza in supporto e naturalmente performare alla grande quindi aspettiamo questo flip e abbiamo anche un'invalidazione chiara naturalmente qua la stiamo guardando sul giornaliero se volete fare un trade in leva naturalmente dobbiamo andare su un time frame più basso quindi andate a zoomare sul quattro ore eccetera ma io aspetterei che questo livello qui è 00 10 89 50 venga flippato quindi aspetterei sicuramente questo lo stop lo metterei subito sotto diciamo una candela che va a chiudere sotto questo livello importantissimo prossima coin naturalmente popcat che è salita tantissimo ultimamente l'abbiamo data anche nelle ultime settimane ma io aspetterei che scenda un pochino se volete ad ogni costo popcat naturalmente il primo livello di attenzione questo qui a un dollaro e 31 ci siamo andati vicini qua sul daily abbiamo questa candela indecisa oggi io aspetterei almeno questo livello di 0 61 8 di fibonacci quindi un dollaro e 15 potrebbe tranquillamente scendere anche di più io aspetterei appunto che torni indietro questa coin è molto volatile ragazzi se volete ad ogni costo un'esposizione se sentite fomo cosa fate secondo me potete applicare la regola del 25 30 per cento una cosa di questo tipo quello che faccio io ho molta fomo ho deciso di mettere faccio un esempio 1000 dollari su popcat prendo 250 dollari entro e inizio a prendere posizione su questa coin così nel caso senza sapete che queste coin possono esplodere in qualsiasi momento come sui che ha una forza incredibile eccetera in questo periodo siete dentro con un 25 per cento se torniamo indietro avete un prezzo medio buono col dca valutate voi se avete fomo entrate assolutamente non entrate chiaramente in oltre mai cercate aspettate sempre che il mercato diventi rosso se abbiamo una giornata in cui crolla tutto quella è la giornata in cui iniziare a posizionarsi e oppure aspettare che la narrativa delle meme non sia più calda questa potrebbe essere un local top perché tutte le coin principali stanno performando alla grande abbiamo brett abbiamo appunto popcat abbiamo wif che stanno performando alla grande qualcuno prenderà profitto naturalmente li metterà su progettini più piccoli quindi potremo avere ancora una due tre settimane di meme coin a bassa capitalizzazione che esplodono naturalmente più rischiose di cui io non parlerò assolutamente in questi video perché è troppo digen troppo pericoloso dopodiché potrebbe finire questa momentaneamente questo ciclo di meme non credo che sia la fine per il ciclo assolutamente anzi sono convinto che avranno valutazioni incredibilmente più alte quindi ci sarà il tempo quando diciamo questa narrativa meme sarà un po meno calda sembrerebbe che si sta cominciando andare verso una narrativa del gaming perché è uscito off the grid pazzesco è un gioco chiacchieratissimo giocatissimo da influencer incredibili eccetera il gioco è fantastico a livello di web 2 con l'integrazione in crypto non te ne accorgi nemmeno è fatto benissimo per cui potrebbe off the grid portare alla narrativa gaming abbiamo già alcuni progetti che stanno esplodendo nel settore gaming grazie ad off the grid ma non è il tema di oggi quindi se parte il gaming quello può essere un buon momento per entrare sulle meme che si raffredderanno un pochino quindi popcat aspetterei che si calmi un attimo un'altra coin che è un po fredda in questo momento ma su solana che anche lei sta prendendo un po di respiro solana in questo periodo e naturalmente bonk bonk è molto calma quindi può essere un buon momento per entrare questa è la media 200 periodi vedete che bonk e bearish da un bel po di tempo la sta raggiungendo quindi aspettiamo semplicemente il flip di questa media 200 che ci farà da supporto per andare naturalmente long su bonk lo vedo molto bene questo long su bonk vedete ha appena fatto un air high sul 4 ore aspettiamo naturalmente che ne faccia un altro quindi in questo momento se riesce a flippare questa che la resistenza e poi andare verso l'alto naturalmente possiamo entrare a cercare di posizionarsi sul secondo air low quindi qua sotto lo stop questa è l'idea aspettare il flip per quanto riguarda naturalmente bonk l'upside è grandissimo andiamo a vedere come rischio rendimento questo un fantastico trade immaginiamo di entrare praticamente su questo livello lo stop ovviamente all'inizio è un po più largo ma poi lo alzate naturalmente e possiamo puntare tranquillamente il primo target è questo qua 11 12 per cento dopodiché naturalmente abbiamo altri target incredibile 40 per andare verso l'altime i di bonk abbiamo veramente un upside incredibile comunque bisogna essere molto pazienti e non avere fomo assolutamente l'altra coin che mi interessa veramente ragazzi è foxy che è legata a linea a metamask e la ritengo molto interessante anche perché ha un market cap molto basso ed è listata su exchange anche grossi la andiamo a vedere naturalmente su zoom ex questa è foxy oggi ha fatto 27 per cento è in questo momento sulla resistenza questo qua è stato un local top che sta cercando di superare in questo momento è abbastanza chiara questa linea di demarcazione sul grafico quindi anche qua aspettiamo che ci sia accettazione sopra questo livello per entrare nel trade invalidazione molto semplice ci mettiamo qua sotto l'ultimo questa è l'idea risk reward fantastica credo che il market cap sia molto basso e molto conveniente se entriamo qua nel trade andiamo uno stop loss del 25 per cento che un po esagerato naturalmente sul quattro ore lo stop è più vicino può essere molto vicino l'invalidazione possiamo avere un 4 5 per cento e poi quando il trade va a nostro favore naturalmente abbassiamo il rischio primo target questo qua 30 per cento secondo take profit 50 per cento abbondante mi sembra un ottimo rischio rendimento quindi foxy da tenere d'occhio soprattutto perché è la meme coin principale su linea e c'è anche il supporto di metamask e c'è la volpe ed è praticamente l'unica con questo animale importantissimo c'è un'altra coin sicuramente interessante e mew sta andando verso l'altimei qua sul daily se riesce a flippare questo livello praticamente quello dei massimi va in price discovery quindi è interessante quindi anche qua nessun problema nessuna fomo aspettiamo che ritracci su livelli interessanti vedete che naturalmente andiamo a tracciare i supporti più interessanti ad esempio questo andiamo a vedere un fibonacci questa coin ha dei crolli molto importanti molto significativi quindi per quanto mi riguarda il livello minimo di interesse se scende questo qui del 0 61 e 8 intorno a 0 0 5 9 6 3 o se no aspetta appunto un flip verso l'altimei e quindi la price discovery quindi se supera questi livelli dei massimi come chiusura naturalmente in questo momento è sopra ma dobbiamo vedere come chiude questa giornata qua siamo sul giornaliero andiamo anche su un quattro ore dobbiamo aspettare almeno per quanto mi riguarda tre candele chiuse qua sopra allora chiaramente sono bullish questa idea mew coin legata a solana naturalmente un gatto questo è quanto ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate quindi le coin sono queste spx giga pepe popcat wiff poi abbiamo mog bitcoin l'abbiamo viste prima e siamo a 7 coin siamo andati a vedere bonk 8 abbiamo foxy 9 e abbiamo messo eme w abbiamo 10 coin abbondante credo molto anche in maver di ighi e questo è un po quanto punterò naturalmente su queste coin soprattutto abbiamo naturalmente anche brett che sta performando molto bene ultimamente ha fatto un bel salto dal 10 di ottobre sta performando veramente alla grandissima che brett un livello d'attenzione sicuramente questo qui a al questo supportino che si vede molto bene intorno a 0.10 facciamo 10 centesimi tondi 10 centesimi e 3 e il primo target naturalmente è questo qui intorno ai 14 0 14 23 brett è anche una delle coin sulla quale sono allocato meglio fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come vedete le meme se secondo voi continuerà questo ciclo credo che nel breve ne abbiamo ancora per poco potrebbe essere un top temporaneo magari andiamo avanti ancora due settimane tre con quelle a bassa capitalizzazione questo è il mio pensiero ma sul lungo periodo sulla lunghezza del ciclo penso che performeranno alla grande insieme ovviamente all'intelligenza artificiale questo un po il reso conto come sempre se avete apprezzato questo video distruggete il tasto like e noi ci rivediamo al prossimo video sempre qua su hardlock crypto